Truffa e ricettazione nei guai un 42enne castelnovese che avrebbe messo a segno numerosi colpi anche ai danni di un falegname. Viabilità a Marola, novità per la Curva Mori, i lavori passeranno dalla provincia al comune. Crise economica, la Liguria si rialza, il tasso di disoccupazione scende sotto il 10%, l'export cresce del 7%. Indagini tossicologiche, la provincia all'avanguardia, oggi un convegno a Sarzana. Un compleanno speciale per la ludoteca civica per festeggiare i 30 anni, 4 giorni di eventi per grandi e piccoli. Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TLS, giornale ricettazione e truffa. Di questi reati si sarebbe macchiato un cittadino castelnovese di 42 anni colpito dall'avviso del questore della Spezia a seguito delle numerose denunce a suo carico. Le indagini condotte dalla Polizia di Stato erano scaturite con la denuncia di furto del portafogli di un'anziana signora accaduto in un giorno di mercato. Oltre ai soldi e ai documenti, alla signora era stato asportato anche un libretto di assegni, uno dei quali utilizzato successivamente per commettere una truffa ai danni di un falegname in Toscana. I poliziotti, dopo aver individuato e denunciato il nomade per i reati di ricettazione e truffa, scoprivano che il 42enne in passato si era reso responsabile più volte degli stessi reati in varie città toscane ed emiliane, utilizzando la stessa collaudata tecnica fino a diventare un vero e proprio lavoro. Parliamo ancora di cronaca, intervento delle guardie giurate della Lince questa notte in via Sarzanello in un circolo. Poco dopo le tre è arrivata una segnalazione di allarme furto alla centrale Lince. L'allarme è scattato mettendo in allerta l'operatore di centrale che ha identificato immediatamente il tentativo di furto ed ha avvisato una pattuglia che si trovava in zona che è giunta sul posto in una manciata di minuti. Al controllo esterno le guardie giurate rilevavano segni di scasso sull'orchetto della porta laterale. Avvisato il gestore, il padrone del locale, sul posto con le forze dell'ordine e con le guardie giurate è stata effettuata un'ispezione interna a seguito della quale è risultato tutto regolare. Cambiamo argomento, novità sulla discussa viabilità della curva Mori sul tratto che conduce a Marola. Dopo una serie di rimpalli tra provincia e comune arriva il nulla ossa per una serie di modifiche che renderanno più sicura l'area. Sentiamo la nostra intervista, le immagini sono di Davide Morina. Assessore Mori, ci sono delle importanti novità a Marola riguardo alla curva Mori. Sì, finalmente la commissione consigliare ha votato all'unità quindi a presto andremo in consiglio comunale perché il comune della Spezia l'amministrazione propone che il comune della Spezia si sostituisca la provincia cioè il comune della Spezia diventa stazione appaltante per l'intervento che avrebbe dovuto fare la provincia di ratifica della curva Mori ovvero dell'allargamento della curva. Quindi il consiglio comunale a breve voterà questa convenzione con la provincia quindi noi diventeremo stazione appaltante, realizzeremo l'opera e in tempi brevi inizieranno i lavori e spero di poter consegnare a Marola una curva ratificata cioè più larga e quindi di nuovo il marciapiede. Timidi segnali di ripresa economica in Liguria nei primi nove mesi del 2015 rispetto allo stesso periodo del 2014 il tasso di disoccupazione scende sotto al 10% grazie al più 9% del comparto lavoro autonomo le matricolazioni di auto aumentano del 14,1% l'export del 7% e per la prima volta dall'inizio della crisi torna al segno più la domanda interna di beni durevoli lo rileva l'analisi dell'economia della Liguria novembre 2015 curata dalla sede genovese della Banca d'Italia la ludoteca civica Spezzina compie 30 anni e per l'occasione organizza una serie di eventi dedicati a grandi e piccoli questa mattina in via Gramsci la presentazione delle iniziative che partiranno il 18 novembre vediamo il servizio e le immagini sono di Davide Morina Assessore Saccone, la ludoteca civica compie un'età speciale sta per festeggiare anche il compleanno di che cosa stiamo parlando? è un compleanno che sta davvero nel cuore di tutti 1985-2015 30 anni 30 anni di amore e di bambini che crescono in ludoteca abbiamo pensato a tre giorni straordinari e tutti al centro all'end e poi con una chicca, un regalo particolare ecco, come si svolgeranno queste giornate? allora, il 18, il 19 e il 20 sicuramente si incontreremo al mattino al centro all'end oltre 300 bambini ci saranno convegni, ci saranno spettacoli e soprattutto ci sarà la presentazione di un gioco realizzato dai bambini stessi un gioco che percorre i principali monumenti della nostra città quindi passando da Garibaldi alla Contessa di Castiglione per arrivare poi alla ludoteca con penitenze, con premi qualcosa di veramente interessante ma la cosa più bella è che è stata realizzata con i disegni e i colori dei bambini 30 candeline per la ludoteca 3 giorni di eventi importanti e un titolo particolare Un sasso nello stagno cerchiamo un attimo di fare un po' il punto di quello che succederà in città Un sasso nello stagno è una frase di Rodari scritta in un libro di Rodari che è molto più lunga del semplice titolo Un sasso nello stagno ma il significato è importantissimo è il sasso nello stagno che lanciato nell'acqua forma onde concentriche che si allargono e vanno a toccare tutto quello che hanno intorno quello che è intorno è quello che noi vogliamo fare qua in ludoteca allargarci sempre di più e toccare toccare la sensibilità toccare i desideri invogliare le persone a fare delle cose quindi attività, laboratori, giochi momenti di condivisione questo è lo scopo fondamentale della ludoteca in questi tre giorni in tre giorni questi sono quattro in realtà sono tre giorni dedicati ai bambini alle scuole perché avremo tre giorni al centro alliende le mattinate piene di bambini che verranno a riprendersi il loro libricino di fiabe fiabe che hanno scritto l'anno scorso nel laboratorio che noi proponiamo ormai da anni Fate streghe, castelli e magie che è un lavoro sulla fiaba è molto bello infatti lo facciamo da anni e continuiamo a farlo e anche quest'anno l'abbiamo già riproposto avranno occasione di ascoltare le loro fiabe lette da attori avranno occasione di riprendere come dicevo il loro libricino e il pomeriggio del venerdì il 20 novembre che fra l'altro è una giornata particolare perché la giornata è la ricorrenza della convenzione della giornata internazionale dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza ci sarà uno spettacolo gratuito per tutti i bambini anche Copp festeggia i 30 anni della ludoteca sì noi collaboriamo da diversi anni con la ludoteca civica e in questa occasione abbiamo sostenuto questo gioco quindi questo gioco sarà utilizzato dai bambini e noi nell'ambito della collaborazione inseriamo dei percorsi che stanno dentro all'attività di Copp Sapere Copp è una nostra guida dove offriamo al mondo della scuola gratuitamente tanti percorsi su diverse tematiche dall'alimentazione all'ambiente alla cittadinanza i pirati informatici ora si servono di Equitalia per rubare con un click informazioni riservate e denaro è la stessa Equitalia a lanciare l'allarme dopo aver avuto conferma dalla polizia postale che in questi giorni è in atto una nuova campagna di phishing cioè di tentativi di truffa informatica architettati per entrare illecitamente in possesso di informazioni riservate numerosi utenti infatti hanno segnalato di aver ricevuto email truffa contenenti presunti avvisi di pagamento di Equitalia e che invitano a scaricare o a utilizzare link esterni Equitalia è assolutamente estranea l'invio di questi messaggi e raccomanda nuovamente di non tenere conto delle email ricevute e di eliminarla senza scaricare alcun allegato proseguono i lavori del convegno ecclesiale di Firenze molti temi in discussione oggi vediamo l'intervista al direttore di Avvenire Marco Tarquinio il servizio di Italo Lunghi Tanti temi trattati dal convegno ecclesiale quali secondo lei saranno più fruttificanti per la chiesa in Italia? A cavarmela quasi con una battuta tutti quelli che la metteranno in cammino sul serio voglio dire sono stati indicati in molti modi il tema della famiglia il tema dell'incontro con i diversi di noi che vengono a vivere qui perché c'è un dovere di accoglienza è un dovere di annuncio un dovere di testimonianza io credo che questo sia un convegno come è già stato colto da quasi tutti e dal clima che si respira un convegno di svolta non perché si comincia un cammino nuovo ma perché il cammino che abbiamo fatto fino adesso comincerà a fruttificare il Papa l'ha detto molto bene c'è un tesoro che dentro questa chiesa così antica per fede e per saggezza in tante sue parti ma c'è un tanto da dare e questo è il momento non si può perdere tempo la stampa e il convegno ecclesiale di Firenze qual è l'eco che si respira lei da giornalista insomma l'eco è forse una parola grossa in questo caso nel senso che vedo molti luoghi comuni ma il luogo comunismo lo sappiamo è una delle malattie del nostro tempo soprattutto del tempo mediatico che è leggermente diverso agli altri tempi è asincronico quindi non si capisce che cosa sta accadendo qui da parte di molti dei colleghi io ho visto titoli che parlano di sferzate del Papa sì sferzate dell'energia qualcuno ha parlato di schiaffi non lo so io non ne ho visti dare ho sentito un dialogo vero tra il Papa che parlava e tutti coloro che l'hanno ascoltato qui e altrove nella chiesa nella chiesa italiana credo che ci sia bisogno di occhi diversi anche da parte della stampa io uso una battuta che può sembrare irriverente Papa Francesco sta rompendo le scatole nelle quali chiudiamo già preconfezionati i giudizi su tutto quello che accade anche nel mondo ecclesiale italiano queste scatole sta facendo a pezzi e ci costringe a guardare la verità della vita della gente la verità della vita della chiesa e questo può far bene solo a tutti speriamo che faccia bene anche i giornalisti un'altra nota positiva moltissimi giovani presenti al convegno e beh questo è un altro dato importante a me ha fatto ha dato una grande gioia sentire il Papa che parlava della necessità di mettere le mani dentro la realtà italiana proprio riferimento ai giovani che vengono raccontati qui con una narrazione mediatica che riguarda la chiesa riguarda la società civile come quelli che guardano altrove che cercano altri orizzonti è molto importante che capiamo che sono la nostra grande risorsa lo sono per la chiesa lo sono per la la nostra comunità civile ed è importante che siano qui nel momento in cui questo cammino che abbiamo fatto fino ad oggi prende un ritmo diverso più accentuato più bello Sgravi fiscali anche per chi apre nuove attività no slot partecipazione alla costruzione delle politiche di contrasto allargata anche a chi si occupa di prevenzione e recupero dei soggetti dipendenti e coperture finanziarie certe per dare attuazione concreta alla legge sono queste in sintesi le modifiche che il gruppo del partito democratico propone ai testi delle leggi regionali che regolano attualmente il settore un'occasione per confrontarsi su uno dei temi più scottanti dell'attualità aperta a tutti i cittadini per raccogliere suggerimenti e riflessioni al di là delle appartenenze politiche il circolo PD centro l'unione comunale PD la Spezia organizzano per domani alle 17.30 un incontro emigrazione dall'accoglienza all'integrazione proposta in Europa in Italia e nel nostro territorio in programma allo Urban Center in via Carpenino alla Spezia oggi 12 novembre ricorre l'anniversario dell'attentato di Nassiria dove persero la vita 19 italiani tra questi il sottotenente dei carabinieri lo spezzino Enzo Fregosi ce ne parla Jacopo Cidale sono passati 12 anni da quella mattina del 12 novembre 2003 quando in Iraq a Nassiria un camion cisterna pieno di esplosivo venne fatto esplodere davanti a una base italiana dei carabinieri l'attentato causò la morte di 28 persone tra carabinieri militari dell'esercito e civili tra le vittime 19 erano italiane a perdere la vita anche il sottotenente dei carabinieri lo spezzino Enzo Fregosi oggi a 12 anni dall'attentato anche i carabinieri della Spezia hanno voluto ricordare quei tragici fatti in particolare la figura di Fregosi tutto il comando spezzino si è stretto vicino alla famiglia con la mamma il fratello e la sorella del sottotenente che ancora oggi vivono alla Spezia Fregosi iniziò la carriera nell'arma dei carabinieri prestando servizio alla territoriale per poi passare ai paracadutisti negli anni 70 fu uno dei fondatori e poi comandante del gruppo di intervento speciale GIS in seguito divenne comandante del nucleo antisofisticazione NAS di Livorno nel 2003 partecipò all'operazione antica Babilonia in Iraq dove come detto perse la vita in un attentato venne decorato di croce d'onore alla memoria gioventù nazionale movimento giovanile di fratelli d'italia guidato da Fulvio Mammi in collaborazione con il consigliere comunale Maria Grazia Fria il coordinamento provinciale di fratelli d'italia con Alessandro Rosson sabato 14 alle 16.30 in corso Cavour ricorderanno la caduta del muro di Berlino se Trenitalia sostiene che con i soldi che corrispondiamo per il contratto di servizio non è in grado di garantire la qualità dei convogli Liguri significa che invece di pensare al rinnovo del contratto con Trenitalia la regione Liguria valuterà la possibilità di una nuova gara per individuare un altro gestore tra gli eventuali competitor risponde così l'assessore ai trasporti della regione Liguria Gianni Berrino alla presa di posizione dell'azienda nei confronti della regione dopo l'improvvisa soppressione di un treno della fascia matutina lungo la tratta Sestri-Levante Berignole Cambiamo argomento torna venerdì alle 21.30 al nuovo appuntamento con il salotto del signor Rossi che questa settimana si occuperà di mobilità e dei trasporti nella nostra città e in provincia vediamo una breve anticipazione di un servizio che andrà in onda domani nel corso della trasmissione condotta da Fausto Rossi Siamo alla fermata dell'autobus sotto la nostra redazione proveremo a viaggiare per un breve periodo di tempo insieme ai cittadini che abitualmente usano questo mezzo di trasporto a sentire le loro voci a vedere quali possono essere le caratteristiche di questo servizio cittadino Salve siamo sul 3 una delle linee più frequentate forse del circuito urbano lei prende spesso quest'autobus? in questo periodo si come si trova come trova il servizio? bene ottimo anche perché forse è una linea molto ce ne tanti insomma ogni 10 minuti quindi io faccio da mazzetta alla chiapa arrivo fino al capoline per me è perfetto prende abitualmente l'autobus? si prendo sempre l'autobus ho l'abbonamento ma il servizio dipende di chi c'è sopra le corriere perché abitualmente sono molto gentile ma tante volte trascurano delle cose che non dovrebbero trascurare per esempio in una fermata mentre la corriere è ancora ferma qualcuno cerca di salire non sentono niente vanno avanti e via diceva il suo commento sul servizio doveva fermarsi lì doveva arrivare qui dalla pedana eccola qui è fatta apposta per scendere in parità e lui si è fermato 5 metri prima succede spesso questa cosa? succede vuol dire che non capisce niente quello lì siamo alla fermata di piazza del mercato molto popolata la mattina anche in altre ore della giornata lei viene dalla spesa usa abitualmente l'auto? si si soprattutto si 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 trova? mi trovo bene si 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 c'è una linea la linea prendo sempre 24 perché abito lì costa di murlo sopra Pegazzano lo solo unico per noi lo solo prendo questo come servizio quindi anche sulle linee collinari come orari ecco per per me va bene perché è proprio un momento giusto per scendere fare la spesa e tornare a casa alle 11 così si si è comodo il 12 ha ritardi proprio come programmazione perché non è mai quindi hanno calcolato male i tempi l'unica cosa di cui penso ci si possa lamentare è di tutti quelli che viaggiano a UFO un convegno culturale a casa Massa domani alle 17 infatti la professoressa Annalisa Tacoli terrà una conferenza l'immagine femminile dalla bella epoca agli anni folli l'evento è aperto a tutti società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica Sibio che utilizza un sistema di gestione qualità ha organizzato oggi a Sarzana il secondo convegno nazionale del gruppo studio farmatossicologia e dopping dal titolo indagini tossicologiche per la valutazione dell'attualità di consume sangue fluido orale espirato e da questo convegno è emerso che la provincia della Spezia è un'eccellenza in questo campo per noi c'era Italo Lunghi le immagini solo di Raffaele Maulella uso di droghe di alcol è un fenomeno che preoccupa molto le famiglie italiane e non solo qual è la situazione a livello nazionale la situazione non è certamente preoccupante nella sua globalità è preoccupante nel comportamento dei giovani che soprattutto usano queste sostanze e poi si mettono in macchina ecco a questo dobbiamo dire sempre no e implementare i controlli il consumo c'è è purtroppo alto nei giovani adulti che sono quelli che poi escono di notte e che guidano la macchina organizzare un convegno molto riuscito molti giovani molti professionisti presenti sì la nostra società è la Sibio con società italiana di biochimica clinica medicina di laboratorio e lo scopo è quello di cercare di chiarire un pochino quelli che sono alcuni aspetti soprattutto su quelle che sono le norme e l'applicazione delle norme relative al codice 186 187 quindi alla guida sotto sostanze d'abuso ed è un convegno che ha avuto diciamo un successo di partecipazione e questo ci fa capire che è un argomento sentito e diciamo questo qui nella nostra zona ha fatto capire che siamo un pochino avanti rispetto ad altre parti d'Italia perché qualche anno fa nel 2011 è stato istituito un protocollo con la prefettura che ha coinvolto sia l'ASL 5 che le forze dell'ordine e l'applicazione di questo protocollo ha portato veramente a dei risultati noi oggi non abbiamo nessun contenzioso su questo argomento che è una cosa abbastanza rara oggi un incontro con tanti giovani un modo per educarli ad essere più consapevoli certo noi dobbiamo sempre diffondere l'informazione fare della buona informazione dire quello che succede spiegare l'effetto che hanno queste sostanze quando ci si mette alla guida e dire che queste due cose non si devono associare mai e comunque il consumo di alcol e di droga non va mai applaudito sono gli adulti che forse non hanno capito il problema dei giovani in questo momento quando si parla con i genitori si dice cosa vuoi che sia fumare uno spinello non è niente cosa vuoi i ragazzi si devono divertire in qualche maniera in questi giorni si parla anche di doping nello sport visto che parliamo di giovani c'è una correlazione anche rispetto a questo fenomeno che va controllato anche nello sport c'è una situazione particolare nel nostro paese la situazione è certamente conosciuta ma il ministero della salute dal 2000 ha una legge per la tutela dello sportivo e controlla non solo gli atleti di elite ma anche quelli amatoriali per cui a tutti noi mandiamo il messaggio che il doping è negativo e il messaggio è sempre che il divertimento e la salute devono venire da dentro mai da fuori mai dall'ingerire una sostanza esogena sono una cinquantina da 20 miglia alla spezia le associazioni del territorio che sabato prossimo dalle 9 alle 19 saranno presenti in tutti i punti vendita di Copp Liguria per effettuare una raccolta solidale di generi alimentari in collaborazione con le sezioni soci della cooperativa un esercito di centinaia di volontari che supportano la pianificazione e la realizzazione delle attività sociali l'iniziativa si intitola un sacco di solidarietà e punta a replicare il successo dell'edizione promossa a maggio tra le organizzazioni coinvolte si contano realtà molto note organizzate come l'associazione San Vincenzo dei Paoli la rete Buon Mercato Spezzina le Caritas Diocesane le pubbliche assistenze le croci le arci e le acli ma anche parrocchie e piccole associazioni locali l'ambulatorio dell'ASL presente presso gli uffici comunali di via Valentini 89 ad Arcola da sabato 14 novembre si trasferirà temporaneamente nella sede Avisaido di via Valentini in attesa del completamento lavori di ristrutturazione tornata domani in piazza Sembona alla Spezia fino a domenica dalle 9 alle 20 la manifestazione che ha come protagonista i sapori i colori e i folclore siciliani la manifestazione è alla sua seconda edizione in città ed inizierà tutti con prodotti tipici che i visitatori potranno degustare e acquistare al grande mercato 22 gazebe di colore giallo-rosso disposti in piazza Sembon esporranno prelibate specialità si terrà domani alle 18.30 al CIV Nuovo Centro lo spettacolo L'uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello con Lucio Caratozzolo e Daniele Ceccarini luci ed effetti sonori sono a cura di Alessandro Cicconi lo spettacolo è ad ingrasso libero è organizzato dal CIV Nuovo Centro dalla libreria Liberi Tutti con il patrocinio del Comune della Spezia e in chiusura veniamo alle previsioni del tempo per la giornata di domani sulla costa al mattino ci sarà cielo nuvoloso con qualche schiarita al pomeriggio il cielo rimarrà nuvoloso sempre con qualche schiarita i venti saranno deboli meridionali con temporaneo rinforzo fino a moderati a ponente nelle ore centrali della giornata il mare sarà inizialmente calmo in aumento fino a poco mosso a fine giornata sul ponente mosso a largo le temperature oscilleranno tra una minima di 12 gradi e una massima di 18 gradi per questa edizione del TLS giornale questa era l'ultima notizia grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata su Tele Liguria Sud arrivederci chau 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 Grazie a tutti.